La Juve oggi non può pensare al fatto che lo scudetto sembra sempre più indirizzato verso l'Inter che ieri ha sconfitto l'Atalanta ed è tornata a più 10 punti sulla Juve. Perché stasera per la Juve è notte di Champions. Dopo la sconfitta parla 2-1 al Dortmund, i bianconeri per eliminare il Porto devono vincere almeno 1-0. Non sarà impresa facile, ma i bianconeri hanno esperienze tasso tecnico superiore ai portoghesi. Nella Juve solo tre l'assenza certe stasera, Dybala e Betancourt, oltre a Danilo Scolificato. Invece in difesa tornano Chiellini ed Elite e sono in ballottaggio per affiancare Bonucci. Quadrado ed Aleksandrano sanno gli esterni di difesa. Gli esterni di centrocampo invece dovrebbero essere Chiesa e Bernardeschi con Arthur e Rabiot centrali. E McKennie e Ramsey potrebbero entrare nel secondo tempo. In attacco nessun dubbio giocare la coppia ebeica Marata-Ronaldo. Dall'O2 i tifosi viventi inattendono i gol per la qualificazione quarti.